Il tema oggi erano le fake news che è un tema appunto di interesse assoluto per i cittadini e per gli utenti. Ci siamo interrogati come la città metropolitana possa contribuire a contrastare questo fenomeno essendo noi non ente che leggifera il nostro contributo può essere permettere alla diffusione delle informazioni delle banche dati che abbiamo a disposizione e renderle facilmente consultabili per il cittadino. L'informazione è il contrasto migliore alle fake news, motivo per cui stiamo realizzando una serie di progetti proprio per consentire ai cittadini e agli utenti di avere libero e veloce accesso a quelle che sono le informazioni.